Buonasera a tutti, sono iW5IFX, Leonardo, in questo momento ci troviamo non lontano dal Castiglion della Pescaia e la referenza è IFF658, cioè di Accia Botrona. Di qua potete visionare l'entrata della riserva, ma io in questo momento sono nel parcheggio della riserva. Guardando la mappa ho visionato che metà parcheggio è dentro la riserva. Infatti se rientriamo indietro verso la strada normale notiamo che il parcheggio è tutto dentro la parte di qua dove tornando indietro si vedono tutti i cartelli. In questo momento io sto utilizzando per l'attività importate di oggi una delta loop, la mia solita delta loop 20 metri monobanda e il dipolo, sempre solito, autocostruito a V invertita per i 40 metri. Queste le mie antenne, sempre con i sottoruota e l'antenna per le antenne. In questo momento io sto utilizzando la parte dietro della mia auto con, diciamo, imbandita un po' di tutto, ma le cose principali sono la batteria e l'apparato che è un 706 MK2G. Con la potenza di 100 W sono già riuscito a fare almeno più di 110 WSO sia in 40 che in 20 e dovrebbe essere, avere attivato la riferenza. Questa era una nuova new one 658 come numero e tutto va. Io vi saluto, grazie molte di aver letto e guardato magari questo video. Spero di risentirti molto nelle mie attività che afferco, o se no, risentiamoci in aria comunque e magari anche a breve in Germania a Friedrichshafen dove io sarò sicuramente. Un abbraccio a tutti e 7344. Ciao ciao.